Anche Cagli si ritaglia il suo spazio d'onore all'interno delle celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro. Nella chiesa di San Domenico è stata inaugurata sabato e sarà visitabile fino al 30 novembre la mostra Cagli e Federico tra documenti d'archivio e dipinti di Giovanni Santi. Una mostra che testimonia la figura di Giovanni Santi e lo stretto legame col Duca in una esposizione curata da Massimo Bonifazio e Marco Droghini promossa dal comune e dall'itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord. Federico e Cagli. Cagli è la terza città del Ducato, si pone tra Gubbio e Urbino, Federico nasce a Gubbio e diventa ovviamente Duca di Urbino e quindi Cagli è al centro. Federico aveva la sua residenza a Cagli, il palazzo municipale era la residenza di Federico a Cagli e inviò tutti i suoi artisti più rappresentativi, vale a dire Giovanni Santi che oggi celebriamo e anche Francesco Di Giorgio Martini che ha lasciato un tangibile segno nella Rocca e nel torione di Cagli, li invia Cagli perché per Federico Cagli è un fulcro per la rinascita. Giovanni Santi è stato uno dei più grandi esponenti della corte feltresca, un pittore di corte appunto, ha scritto una biografia di Federico a Montefeltro e all'interno della chiesa di San Domenico noi possiamo godere delle sue opere, in particolare di tre opere, il monumento dedicato a Battista Tiranni, la cappella Tiranni che può essere annovarata tra i capolavori, se non il capolavoro di Giovanni Santi e la testa di San Sebastiano tornata all'interno della chiesa di San Domenico dopo due secoli da quando è stata strappata dall'architetto Michelangelo Boni all'inizio dell'Ottocento e qui portata poi nella collezione privata dell'architetto Boni nel 1830 circa. Focus della mostra, l'esposizione di un corpo di epistole conservato a Cagli che testimonia i legami fra il duca Federico e la chiesa e la comunità cagliese. Sono lettere molto importanti, fanno parte di un corpus di oltre 150 lettere che costudisce gelosamente l'archivio capitolare di Cagli, un unicum perché un archivio così ben fornito, così ben nutrito per quanto esistono delle lacune, rappresentano un unicum nel tessuto marchigiano degli archivi ecclesiastici e in questo corpus di lettere si mostrano a chiari lettere gli addentellati, i forti legami che la corte urbinate aveva con il vescovo e quindi la comunità religiosa di Cedi Cagli. La scelta della sede dove si fa questa mostra, la chiesa di San Domenico, è il luogo dove c'è il capolavoro assoluto di Giovanni Santi, padre di Raffaello, che è la Cappella Tiranni, qui alle mie spalle, e quindi mettiamo anche in mostra, in evidenza, una mattonella, una mattonella che è stata asportata dai muri di questa chiesa, che era coperta da calce, che era stata messa nel periodo della peste per disinfettare gli ambienti, ma in realtà questa chiesa probabilmente era tutta affrescata e nel 1800 un architetto di Cagli ritrovò sotto questa calce una testa di San Sebastiano dipinta proprio da Giovanni Santi. Quindi è un Giovanni Santi ritrovato che facciamo vedere in occasione di questa mostra davanti al capolavoro assoluto del padre di Raffaello. Sono felice di aver ospitato qui questa mostra, in questa bellissima chiesa, anche la nostra chiesa di San Domenico, partendo dalla Cappella Tiranni di Giovanni Santi, Babbo di Raffaello, attraverso poi degli scritti, insomma, ripercorrendo anche la rocca martiniana, quindi Francesco di Giorgio Martini, personaggi legati appunto a Federico e che certificano quindi l'importanza in quel periodo di Cagli, ma non voglio parlare solo di Cagli, veramente voglio parlare di tutto un territorio che deve essere unito nel valorizzare questo splendido periodo, insomma, di cui appunto siamo stati protagonisti nel passato.